Dall'eredità che Romina Power non si perde mai, nemmeno una puntata, a chi può batterci. Una puntata unica su Rai 1 che Marco Liorni è pronto a condurre e giocare in sua compagnia. Sì con Romina Power. È davvero un grande onore per me averla qui, ha confidato Marco Liorni al settimanale di Più TV, la prima cosa che mi ha detto Romina Power, che era felice di lavorare con me perché non si perde una puntata dell'eredità per niente al mondo. È stato un affettuoso scambio di battute. Le ho detto che in casa mia parliamo spesso di lei, da sempre perché mia moglie Giovanna, soprattutto da ragazzina, si sentiva dire, ovunque andasse, ma sei la sosia di Romina Power. La chiamavano proprio così. E ogni volta che l'abbiamo vista in televisione, mia moglie, le nostre figlie e io abbiamo scherzato su questa somiglianza con Giovanna. Già avevo avuto Romina in un mio programma, l'avevo intervistata anni fa alla Vita Indiretta, ma stavolta è tutto diverso e spero che anche il pubblico si diverta guardandoci giocare. Chi può batterci è un po' come un'avventura amorosa di fine estate, poi, magari, da questa avventura nascerà un amore vero e proprio e la Rai deciderà di realizzare un ciclo di puntate più lungo. Marco Liorni, racconta ancora al settimanale di Più TV avrà il doppio ruolo di conduttore e di giocatore. Sono il capitano di una squadra di personaggi dello spettacolo che affronta in un quiz un gruppo di concorrenti. Ci sfidiamo in una serie di domande che possono spaziare tra vari argomenti. Marco è il capitano e con lui ci saranno i Cinque Stelle molto amate dai telespettatori, gli attori Diana del Bufalo, Pierpaolo Spollon e Max Giusti, il giornalista sportivo e giudice di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni. E poi c'è anche lei, la grandissima Romina Power. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.